È stato approvato il decreto legge che sancisce disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture dei trasporti e della circolazione e questo porta con sé uno snellimento delle procedure per le opere pubbliche. Buone notizie dunque per il Parco della Giustizia di Bari. Dopo la nomina del commissario delegato per la realizzazione dell'opera, vengono dati allo stesso strumenti per lavorare con procedure semplificate e veloci, così da ridurre i tempi di realizzazione dell'opera. Le norme indicate nel decreto infatti prevedono un modulo estremamente rapido per il rilascio dei pareri, per l'approvazione dei livelli di progettazione, oltre ad essersi ridotti i termini per l'impugnazione giudiziaria. Questo significa avere un commissario straordinario con poteri straordinari per la realizzazione di un'opera che la città e gli operatori della giustizia attendono da anni. Finalmente, ha detto De Caro, il Parco della Giustizia barese è una priorità non solo per Bari ma anche per il paese intero. Con questo decreto il governo sta mantenendo un impegno preso con la città che mi era stato assicurato meno di un mese fa, approvando di fatto, ha concluso il sindaco, una norma ad hoc sul Parco della Giustizia.